Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare l'ultima espansione del gioco di ruolo di Alien a cura della Fria Ligan Manuale per una nuova avventura ma che inserisce anche tante regoline aggiuntive, diversi mostri e cose che potrebbero servire anche nel gioco normale Quindi come pacchetto aggiuntivo, ovviamente si parla del gioco di ruolo di Alien come vi ho detto E l'espansione Destroyer Awards che è un'avventura che vi calerà nei panni dei colonial marines, quindi dei marine coloniali Ed è la figura più iconica perché l'avete visto, laddove nel pacchetto base, nella prima avventura, nello Star Trek 7 eravate astronauti A bordo di una nave che ricordava molto da vicino anche la Prometheus, quella di Alan Prometheus Questa volta sarete e vestirete i panni dei marine coloniali chiamati su un pianeta, tra molte virgolette, industriale Pianeta alveale, industriale, a risolvere un problema Ed è il primo modulo di avventura vero e proprio creato in scatola a parte che non sia comprensivo appunto del pacchetto iniziale E stanno già facendo una nuova espansione che dovrebbe uscire a metà di ora del 2021 Verso magari maggio-giugno al massimo Che sarà il manuale operativo dei colonial marines Che lo voglio assolutamente perché ci farà vedere tutta la storia, come sono nati, l'addestramento che fanno Nuove regole per creare appunto marine coloniali, equipaggiamento e quant'altro Quindi veramente una cosa spettacolare Io ringrazio la Free Aligan ovviamente perché è tanto tempo che si collabora ad avermelo offerto Vi faccio un po' vedere di cosa tratta A breve, dopo la sigla Alien, l'RPG ovviamente, in questa versione qui, Destroyer of Worlds È edito dalla Free Aligan e portato in Italia Fra poco dovrebbe uscire il set base, il regolamento base, la versione estesa Dalla Weird Edizioni che colgo l'occasione per salutare E vi invito a fare un salto sul sito della Weird Edizioni Quindi ve lo lascio in descrizione come secondo link perché stanno già traducendo il gioco base E secondo me prenderanno anche queste cose Non c'è da fare, penso, precisazioni, non c'è da fare presentazioni per Alien L'ambientazione di Alien e soprattutto ve l'ho già fatta molto a livello estesa nel regolamento base Che vi rimando a vedere nel vecchio video Questo è un modulo d'avventura però che inserisce tante cose interessanti e particolari Ora poi vi faccio vedere anche un po' l'unboxing Perché loro praticamente fanno scatole che hanno del contenuto a volte pari Se non superiore anche a qualche gioco da tavolo Se sentite un po' di confusione perché c'è la stampante FDM che lavora giorno e notte Per lavoro la usiamo quindi non poverina, non sta mai ferma E questa avventura è bella perché vi farà calare nei panni di un gruppo di marine coloniali Mandati proprio dai marine coloniali, quindi da un generale, alla ricerca Un generale ovviamente senza fare spoiler né niente però che collabora da lontano con la famosa Weyland Yutani che tutti conosciamo Vabbè ma questa è una cosa che subito l'avventura ce la fa capire all'inizio Però non per quale motivo venite mandati alla ricerca di un gruppo di quattro marine disertori Che sono scappati su un pianeta ed hanno rubato qualcosa di importante Quindi voi siete un gruppo di marine coloniali alla caccia di altri marine coloniali Quindi i vostri commilitoni che sono fuggiti dandosi alla macchia come si direbbe su questo pianeta E dovete indagare quindi c'è una fase sia di combattimento d'azione che una fase anche di indagini Perché dovete andare a indagare magari nei locali, nei bar, negli ultimi posti dove sono stati Allo spazio porto dovete capire dove sono perché sono stati trovati con qualcosa Cioè è stato, l'hanno visti sfuggire con qualcosa di molto importante che potrebbe fruttare molti soldi O far scatenare una vera e propria guerra e voi siete chiamati a fermarli Quindi andrete a vestire i panni questa volta non di il classico meccanico spaziale Il classico capitano della nave, il classico ingegnere o quello che fa le manovre con la tuta Eva Nello spazio e nel vuoto ma qui sarete proprio i marini coloniali tipo quelli che avete visto in Aliens Scontro finale E è un'avventura che si va a dipanare per vari capitoli I manuali sono veramente completissimi perché sono ricchi veramente zeppi di immagini, di mappe, di carte Cioè avete tutto l'essenziale da poter utilizzare In più non è un'avventura, non è il classico pacchettino Dungeons & Dragons avventura giocata, finita, addio No, perché addirittura le carte, cioè nuovi equipaggiamenti, ci sono nuovi tipi di mostri nel manuale Nuovi incontri, nuovi NPC, sono tutte cose che potete usare anche nel gioco base Quindi non è una cosa soltanto giocata all'avventura, chiuso il pacchetto Perché poi l'avventura la potete utilizzare una volta sola, non è che c'ha più finali, la storia è quella Però tutto il materiale che vi danno insieme, insomma, è veramente tanta tanta roba E vi faccio poi, nel corso avete visto un po' di immagini, insomma, l'ho fatto vedere tutto quanto Schede del personaggio e quello che deve essere E secondo me è veramente molto interessante Infatti appena l'ho visto l'ho chiesto subito alla Fria Ligan Perché a parte sono fanatico di Alien, voglio avere tutto dell'or RPG, che lo aspettavo da una vita Però è fatto veramente bene, poi ho letto, vestirete panni dei marine coloniali Avere, subito Confezione del gioco, bella grande, ovviamente non troppo spessa perché non è un gioco da tavolo Guardate bellissimi i disegni, i disegni con lo xenomorfo Classico, sembra quello grande, gigantesco, più che di Alien 2, quello di Alien 1 Che è il figlio di Kane Che entra all'interno della nave e vedete, ci sono i due colonial marine pronti a combattere Tra l'altro uno sembra avere una smart gun e uno un fucile in pulsi Veramente bellissimo e guarda là, i tipi di disegni che hanno loro sono spettacolari e molto evocativi Apriamo Ovviamente perline di silica, queste qui sempre da conservare Per chi stampa 3D sono anche molto utili Soprattutto per i filamenti FDM, quelli in plastica per non farlo rovinare Poi set di carte, mazzi, vedete i mazzi dei personaggi, soprattutto le agende Quindi non ve lo faccio vedere che sono cose segrete Le agende dei personaggi, perché una cosa molto bellina del GDR di Alien È che ognuno di voi ha uno scopo segreto Che gli altri giocatori non devono sapere Ed è una cosa che a me piace veramente da morire Tra l'altro sono queste qui le story cards Scusate, le carte della storia E queste altre di qua, le rosse, sono le persone all'agenda Che sono gli obiettivi dei vostri personaggi In più di qua ci sono vari equipaggiamenti, varie schede e altre cose Come vi ho detto, come vi ho fatto vedere praticamente anche nella vecchia recensione Ogni arma ha il suo tipo di peso, il costo e tutto quanto Il valore e il danno Il danno delle armi è sempre quello Poi, manualetto della Free League Che vi fa vedere tutto quello che è uscito Questo è il set, è il bundle di Alien Che è il gioco con la mappa Guardate anche la mappa di tutti i sistemi I dadi, stress, i dadi normali Equipaggiamento Schede dei personaggi E poi l'avventura Chariots of Gods Che è la prima che ho giocato anche sul canale E poi Forbidden Lands Tales from the Loop I loro giochi sono tutti bellissimi Ci hanno fatto anche una serie su Amazon Vi ricordo, una serie televisiva E poi c'è Vesen Che tra l'altro questo è di uno spettacolo disumano Poi c'è il manuale dell'avventura Che è veramente bello grosso Ciccioso, come dico io E poi sempre col colore scuro Vabbè, dello spazio bellissimo Guardate i disegni, tutto quello che c'è Voi fate parte, non siete su una nave Siete su una stazione spaziale Collegata con un ascensore Direttamente al pianeta Quindi siete comunque in orbita Io penso in cronosfera, qualcosa del genere Mi correggano se sbaglio Ed è fatto veramente bene Ed è ricco di contenuti Ricco di mappe Ma soprattutto, come vedete Tutte le mappe che potete girare E tutto il resto Ci ho messo il segnalibro Perché stavo finendo di leggerlo E è completo Per un'avventura Ma anche semplicemente Per usare tutto questo Come ambientazione Perché no Anche per future avventure E poi abbiamo Tutte quante le mappe Stampate Guardatela anche La qualità è veramente spettacolare Abbiamo le mappe stampate A moody poster gigantesco Che ci fanno vedere Tutte le zone Che potete visitare nella colonia Cioè ora voi ditemi Tra l'altro Bella anche dura e spessa Dove trovate No Se del genere In un altro gioco di ruolo Ci hanno veramente Un'attenzione Perché poi potete prendere Anche degli omini E delle pedine E spostarli qua sopra Cioè Diventa ve l'ho detto Il contenuto Dei giochi della Fria Liga È una via di mezzo Fra un gioco di ruolo E un gioco da tavola E quella è la cosa bella Perché c'è tanto da C'è poco da difustellare Ma c'è tanto da vedere E queste sono le schede Sia dei Marine Che potete utilizzare Che quelli che sono scappati Da quella squadra Che è vostra missione Andare a recuperare Quindi voi siete chiamati Ad andare a fare questa missione Per recuperare Dei vostri comblitori Che sono andati via Alcune schede Sono Ora sono un pochino Tutte quante messe insieme Da dividere Senza far spoilerne niente Alcuni sono quelli scappati Mentre altri invece Sono quelli che potrete utilizzare E qua sotto Ancora mappe Se siete come me Fanatici di Alien Fanatici del film di Cameron Ma soprattutto Fanatici dei Marine coloniali Non ve lo potete far scappare Perché è una bella avventura Ma poi La prima Era più combattimenti Quella del gioco di base Vi ricordate Quando con quella nave Tipo uno Strom Arrivati su quella nave Tipo Prometheus E quindi c'è Sì una piccola indagine Però L'ho giocata tra l'altro In tre parti Se la volete andare a vedere Sul canale Però era tutta Molta azione Immediato Qui no Qui c'è una prima parte Che sembra quasi un Arkham Horror Di indagine Call of Tulu Dovete indagare Su questi Marine Vostri combilitoni Che sono scappati Li dovete trovare Per riportare La vostra missione Trovarli e riportarli Al capo Punto e basta Perché devono essere arrestati Per quello che hanno fatto La diserzione Però da un'altra parte Dalla seconda parte in poi Diventa proprio bella Action veramente Ed è molto interessante Perché Non è mai Se fosse stata Tutta di combattimenti Dopo un poche scatole Tutta di investigazione Mamma mia Che noia Un trasbrogli più di dosso Invece C'ha queste due parti Divise Fatta veramente bene Poi la componentistica È qualcosa Di veramente Disumano Spettacolare E al solito La Fria Ligan È veramente Sinonimo Di qualità E il regolamento È il più facile Del mondo Avete l'abilità 3 Avete la caratteristica Legata all'abilità 3 3 più 3 6 Tirate 6 dadi E soltanto col 6 È un successo Se fate un 6 Prova superata Master vi potrebbe dire Un dado meno Un dado più Comunque un 6 Basta per superare Tutte le prove Da 2 6 in poi Sono cose aggiuntive Se non fate nemmeno un 6 Avete fallito la prova È il gioco E le armi fanno sempre Lo stesso danno Quindi non vedete Tirare resistenza vostra Più attacco di vell'altro Più danno No Se l'arma fa 3 danni E ti c'è un livello 1 di armatura Tiri un dado per l'armatura Se fai un successo E levi un danno Se no ti becchi 3 danni E l'arma fa sempre 3 danni Almeno che tu non faccia Un successo avanzato Tipo invece di fare un successo Ne fai 2 Il primo ti basta per colpire E il secondo ti fa fare Magari un Ti fa fare un danno in più All'arma Quindi l'arma non fa più 3 danni Ma ne fa 4 Comunque È il regolamento più facile del mondo Passate appena i voti Se lo volete ordinare Primo link in descrizione Direttamente dal sito Della Freeligan Io penso che lo porterà In Italia Alla weird edizioni Però stanno portando In Italia Il Guardo lì Perché ce l'ho lì Il regolamento base Quindi per vedere anche questo Magari ci vorrà un po' di tempo Magari un altro annetto Ma non sono Non ho nessun dubbio Che lo porteranno Quindi grazie alla Freeligan E se lo volete ordinare Per ora Ma solo per ora In lingua inglese Direttamente dal loro sito Ciao ragazzi Alla prossima